Aveva scelto la Toscana, esattamente Montecatini, come luogo della sua latitanza. Non ha però fatto i conti con la squadra mobile Etnea che è riuscita a rintracciarlo e ad arrestarlo. Stiamo parlando di concetto buonaccorsi, latitante dal 2016, noto come Ucarateddu. Il buonaccorsi si era reso latitante dal settembre del 2016, quando recluso presso il penitenziario di Napoli, Secondigliano, dove avere beneficiato di un non permesso premio di tre giorni, il 23 al 26 settembre 2016, da fruire nella città di Napoli, esattamente presso l'opera Don Guastella, non faceva più rientro, rendendosi irreperibile. Grazie alle indagini, un pool di investigatori alla squadra mobile di Catania, dieci giorni fa, si è trasferito nella cittadina Toscana per proseguire le investigazioni, approntando una innumerevole serie di servizi, che hanno consentito di individuare in un agglomerato di case e la frazione del comune di Massa e Cozzile il presumibile covo del latitante. Nel pomeriggio di ieri, gli uomini della Catturandi, con la collaborazione delle persone della squadra mobile di Pistoia, dopo un estenuante servizio di osservazione, hanno notato una donna, esattamente la moglie e le buonaccorsi, affacciarsi al balcone di un appartamento. Trascorso un'ora circa, hanno notato che sul posto e sullo stesso balcone c'era la presenza di un uomo che si apprestava a preparare un barbecue. Avuta la certezza che quell'uomo fosse il latitante, gli uomini della Polizia di Stato hanno circondato l'immobile per impedire ogni possibile fuga. All'atto dell'irruzione, il buonaccorsi non ha posto alcuna resistenza. All'interno dell'abitazione sono state rinvenute e sequestrate una carta d'identità e una patente di guida intestata a un soggetto catenese, abitante nel rione di San Berillo Nuovo. Buonaccorsi è lo storico capo dell'omonima famiglia intesa Caratedi e l'organizzazione Cappello Buonaccorsi e vanto un curriculum criminale di assoluto valore. E' un soggetto particolarmente, come dire, che ha un pedigree criminale intenso, intensissimo. Si è reso responsabile di tutta una serie di omicidi, non soltanto a Catania, quando era in corso la guerra di mafia negli anni 90, ma anche a Torino e a Milano. E questo ne fa un personaggio di assoluto rilievo nel panorama, riteniamo anche nazionale.